Silvia Cangellosi, Medio Teleradio, siamo nel cuore nel Centro Storico di Roma, Palazzo Giustiniani, al Senato, alla fine di questo intervento di queste due ore circa di Solidus e ho con me per commentare un po' perché poi oggi pomeriggio ci sarà la premiazione, la direttrice di Intrecci, Marta Cotarella, benvenuta su Medio Teleradio. Grazie mille. Allora, si è parlato tanto di formazione, di eccellenza, insomma tutti noi, io l'ho detto anche in apertura di programma, abbiamo trascorso, io tanti giorni ho trascorso negli alberghi anche per motivi lavorativi passati, però diamo per scontato a volte quello che è l'accoglienza e il mondo dell'hospitality con tutte le sue figure professionali complesse e oggi proprio questo è un tavolo di confronto unico nazionale dove Metre, Barman, Housekeeping si incontrano e dove poi vengono proposte anche strategie per la formazione così importanti e per l'occupazione. Esatto, sì, è fondamentale ripartire dall'aspetto formativo perché soprattutto in certi lavori che fino a poco tempo fa venivano considerati come possibile farlo tutti, in realtà ci siamo resi conto che c'è bisogno di formazione soprattutto per le figure per esempio di sala che sono quelle che sono rimaste indietro dal puntista formativo rispetto non so agli chef o al metro d'hotel che hanno comunque un riconoscimento formativo anche all'estero per esempio. Ecco sì, chi lavora in sala a contatto col pubblico infatti si apposta anche l'attenzione sulla comunicazione, sulle lingue. Esatto, è fondamentale la conoscenza delle lingue per poter comunicare ovviamente con il cliente, non solo se si lavora all'estero ma a maggior ragione per i turisti straniere che vengono poi in Italia, quindi la conoscenza anche della cultura del posto, delle tradizioni gastronomiche, delle opere d'arte che ci circondano che per noi a volte sono scontate molto spesso si passa sotto i monumenti a testa bassa guardando il cellulare e ci si scorda che siamo circondati di bellezza. Si è parlato di bellezza, tra l'altro un professore che abbiamo intervistato dell'Istituto Alberghiero del Trentino Alto Adige ha parlato di bellezza, di cura al dettaglio, questo è un mestiere dell'accoglienza, made in Italy, noi siamo molto bravi in questo, insomma all'estero ce lo riconoscono anche se in Germania forse i numeri sono migliori a quanto pare. Sì, il problema forse è proprio questo che partendo da un background di altissimo livello poi ci si scorda che questo tipo di conoscenze vanno sempre di più incrementate tramite appunto la formazione e la conoscenza, quindi bisogna continuare a lavorare sulla formazione di chi entra nel mondo del lavoro, dell'ospitalità e di chi è già dentro il mondo dell'ospitalità ma ha bisogno di continuo aggiornamento. Quindi aggiornamento, stage, apprendistato, la formazione on the job che è quella che va per la maggiore ecco perché si è fatto l'esempio della Germania. Esatto, anche perché in particolare quello di Sara ma anche quello di cucina, di appunto direttore d'albergo è un lavoro che non si impara sui banchi di scuola o comunque non solo sui banchi di scuola ma è fondamentale poi il training on the job, quindi mettere in pratica ciò che si impara a scuola. Insomma, tutti questi programmi televisivi hanno procurato una curiosità verso la figura dello chef del mondo della gastronomia. Sono più famosi dei calciatori, dei VIP, delle rock star. In realtà ci vuole molta dedizione, molta fatica per arrivare a una carriera del genere. Diamo anche dei consigli a tutti i ragazzi che si stanno orientando nel mondo del lavoro perché facciamo chiaramente MediHotelRadio anche in formazione e partiamo anche da qui. Sono aumentate le iscrizioni all'Istituto Alberghiero? Sì, sono aumentate per fortuna. Devo dire che quello dei media che viene di solito criticato in realtà ha permesso di accendere i riflettori su un mestiere, su una professione che appunto fino a qualche tempo fa non era considerata tra le più privilegiate. Se riuscissimo a fare questo anche negli altri settori dell'ospitalità, quindi sulla sala, sul metro d'hotel eccetera, sicuramente questo porterebbe a un nuovo interesse, un rinnovo di interesse da parte dei giovani anche perché c'è una grandissima possibilità di carriera e di lavoro in questo settore. Avete sentito? Grazie, buon lavoro.